Logos Web Radio Benvenuti su Logos Web Radio. In questa nuova puntata di Scrusciu Disturba il Silenzio ascolteremo l'intervista fatta a Rosario Lombardo, fondatore e presidente dell'associazione Il Pan e le Rose. Rosario ci parlerà della nascita delle attività e dei progetti di questa associazione. Come nasce l'idea di creare il Pan e le Rose? L'idea della creazione del Pan e le Rose nasce due anni fa, quasi per gioco, per scherzo, con il mio coinquilino davanti a una bottiglia di vino. Noi facevamo già parte del mondo dell'associazionismo all'interno dell'università. Lui era il coordinatore dell'UDU, io ero un militante, quindi già avevamo una certa propensione all'associazionismo. Solo che poi, avendo fatto i capelli bianchi, pensando che l'associazionismo universitario va fatto da chi è che poi l'università la vive, e quindi lasciare un po' di spazio libero a chi è che si era ben approcciato. Abbiamo detto, ma perché non ci inventiamo qualche cosina per questa città? Cosa manca a Forlì? E Forlì c'era veramente, sentiva un vuoto, la mancanza di un'associazione che parlasse di temi sulla mafia e sulla legalità. C'è da dire anche che il cambio di amministrazione comunale, l'avvento di un assessore alle politiche giovanili di 28 anni nel nostro comune, ci ha dato una gran mano, anche perché non è facile trattare determinati argomenti se non puoi fare riferimento a delle istituzioni, e io vengo da una terra in cui so bene cosa vuol dire provare a fare antimafia, sono siciliano di agrigento, e non avere nessuno dietro. Qui abbiamo trovato un comune che ha accolto le nostre iniziative con entusiasmo, e sulla spinta dell'onda, dell'entusiasmo, poi siamo riusciti ad attivare anche delle altre attività, oltre quella del pane e le rose, in collaborazione con il comune, che poi dai vi racconterò magari dopo. Da quando e perché proprio vi occupate di antimafia qui a Forlì? Da quando e perché? Personalmente da sempre. Personalmente da sempre perché vengo da una terra in cui veramente si respira e si capisce il cancro che è questo problema italiano. A Forlì, come ti dicevo, per il semplice fatto, perché si sentiva un vuoto, girare per strada in una città in cui magari determinati atteggiamenti, determinate espressioni, determinati fatti che succedono, se non si ha l'occhio clinico per questa malattia, magari vengono presi sotto gamba, come purtroppo è anche successo per molto tempo in questa città. Noi non ci sentiamo assolutamente né superiori a nessuno, né moralisti, però pensiamo che giusto per averla avuta sotto casa, la mafia, pensiamo che certi segnali forse siamo anche in grado di coglierli soltanto per averli visti, rivisti e metabolizzati e magari aver lasciato le nostre terre proprio per questo tipo di segnali. La domanda mi chiedevi da quando e perché proprio a Forlì, ma da quando è da due anni, ma il perché di fondo è quello, anche perché si è creato anche il contesto magari giusto, che forse prima non c'era, le attenzioni da parte di determinati soggetti, noi oggi ci troviamo qui in Piazza Saffio a Forlì a fare questa intervista, perché è la tappa della carovana internazionale antimafia di Libera che aveva organizzato noi con il Pannele Rose, ma con il supporto della CGL di Forlì, dell'assessorato alle politiche giovanili, dell'assessorato all'istruzione della provincia, della Lega delle Cooperative e altre associazioni, c'è l'associazionismo universitario, cioè siamo arrivati anche forse in un momento molto profico, più che un merito nostro è stato magari un merito della città che era diventata magari pronta per trattare determinate tematiche che prima venivano prese o sotto gambo, visto come un problema lontano. Quando è nata invece la collaborazione con Libera? Allora, la collaborazione con Libera possiamo dire che è nata da prima di fondare l'associazione, come ti dicevo noi facevamo già antimafia, con il sindacato degli studenti, con Ludu, facevamo delle iniziative sull'antimafia, avevamo già preso i rapporti con la referente di Libera del territorio, dopodiché quando siamo andati anche da lei a proporre questa nostra idea, molto strambalata all'inizio, un po' di qualche ragazzino voleva venire in una città che non è la sua a creare un centro che parli di un problema che magari non appartiene intrinsecamente a questa terra, ha lasciato magari un po' tanta gente spiazzata, però abbiamo avuto anche l'appoggio da parte sia del regionale di Libera che della nostra referente del territorio, la Marisa Zani, referente di Forlice Sena, e tutto questo è nato anche per l'appoggio comunque che dà Libera. Quali sono i nostri progetti futuri e le attività nel circolo? Stiamo lavorando con l'assessorato sempre alle politiche giovanili qui per iniziare a fare anche dei corsi di formazione nelle scuole. Grazie a Libera stiamo facendo dei corsi di formazione per fare i formatori a livello scolastico, ovviamente le difficoltà quando si parla con dei ragazzi che hanno un altro linguaggio, un'altra cultura rispetto al problema, che non può essere soltanto differenza di età, mi sale più o meno, però bisogna avere anche chi ti dice, chi dia gli strumenti per andare a parlare con l'età che in questo senso anche Libera ci viene in soccorso, e in più provare a fare qualcosa di effettivamente più esteso a livello scolastico. Noi oggi il primo esperimento che facciamo qui con le scuole forlivesi abbiamo avuto un'ottima risposta, abbiamo avuto un'ottima risposta in scuole veramente di ogni ordine e grado, dalle elementari alle superiori, per non parlare poi degli universitari, che magari avendo anche l'orecchio un po' più allenato a sentire determinate tematiche viene anche un po' più facile coinvolgerli in determinate iniziative. Le attività nel nostro circolo invece per quest'estate nel nostro circolo verranno sospese causa caldo, quindi ci trasferiremo allegramente in piazza perché parteciperemo alla creazione del maggio della legalità, la seconda edizione che inizierà il 9 maggio con la commemorazione di Peppino Impastato, finirà il 28 maggio con l'intervento del Salone Comunale del Dottor Ingroia e la sera è il concerto gratuito in piazza dei Modena City Rambler, quindi eventualmente siete anche invitati, poi per chi volessi daremo anche del... ci può anche seguire su Facebook o sul nostro blog, adesso vi lascerò anche contatti eventualmente perché le iniziative sono tante, però per maggio, giugno e luglio ci sposteremo in piazza per appunto la mafia parla per simboli il simbolo di riappropriarsi della piazza pubblica, dal cuore pulsante della città e portare in questo posto determinate tematiche è un simbolo, può voler dire anche tanto. Mentre nel settembre cosa potrete... Noi ci potete ritrovare di nuovo nel corso 10 al 92 a Forlì, nel nostro circolo, continueremo con le nostre... Allora, noi durante la settimana siamo divisi con una serata universitaria che è proprio dedicata agli universitari, che è risolta il venerdì sera, poi abbiamo il Cineforum del giovedì e le conferenze che facciamo il lunedì e il martedì, conferenze su temi di attualità, ci appoggiamo molto sia alle istituzioni che all'università per quanto riguarda i relatori e facciamo grosso modo quello. Noi non dobbiamo fare né repressione, dobbiamo cercare di parlare di questo fenomeno e di spronare la gente a pensare che cosa è questo fenomeno, il nostro compito è quello, si limita lì e nient'altro. Se qualcuno fosse interessato a contattarvi, come può raggiungervi? Allora, i nostri contatti sono quello di Facebook, che è il pane, basta digitare il pane, le rose, e andare su Forlì, se ve ne trovate molti altri, e quelli sia noi, oppure il nostro blog, che è ilpanelerose.blogspot.com Capisco la mail anche. Abbiamo anche un indirizzo email, che è quello del ilpanelerose.forlì, senza accento, o c'è la gmail.com L'indirizzo? L'indirizzo è Corso Diaz 92 a Forlì, ovviamente noi, io ho detto quello che facciamo, ma quel posto nasce proprio per l'esigenza di dare un luogo alla gente che venga a proporre anche della roba, perché secondo noi l'antimafia si fa intanto coinvolgendo le persone, ma cercando di trasmettere quel sentimento di corresponsabilità verso il fenomeno. quindi noi non siamo né gente che vuole fare l'eroe o che è un eroe, siamo soltanto dei volontari che credono in un progetto con la massima disponibilità verso tutti, tutti coloro che vogliono venire a proporci qualcosa. Noi abbiamo fatto anche un debito per aprire quel posto che pian pianino cercheremo di ripagare con le attività perché comunque è un circolo arci per dare questo posto qui appunto alla gente che abbia voglia di impergnarsi e di fare. L'intervista è stata curata da Jonathan Mastellari. Un saluto da Andrea Casati. Blogos Web Radio www.ilblogos.it